Quello che domandiamo è libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che noi ad ogni costo noi ce la prenderemo libertà. Troverete qualche affinio da asciugare, dite una parola buona, il Papa è con noi, specialmente nelle ore del mondo. Libertà, quello che rifiutate è libertà, quello che non sapete è che siamo in tanti al mondo troppi a volere ancora libertà. Quello che volevamo è libertà, quello che negavate è libertà, ora però sapete è arrivato quel momento, Subito la vogliamo, libertà. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.